Mancano 15 giorni al quarto Memorial Dante Pagni, torneo di calcio giovanile che si svolgerà nella città del Pollino dal 23 al 25 giugno presso lo stadio Mimmorende. Sponsor tecnico dell'evento, la Evol dei fratelli Esposito, azienda castrovillarese di abbigliamento sportivo che veste anche squadre professionistiche. Tra i colpi messi a segno da Danilo Pagni nell'organizzazione di questo quarto Memorial c'è sicuramente la partnership con Evol. Andiamo all'interno per conoscerla meglio. Cristiano Esposito, direttore di Evol, un'azienda nata da poco ma in forte ascesa nell'ambito dell'abbigliamento sportivo. Questa partecipazione come sponsor tecnico del quarto Memorial Pagni. Sì, abbiamo risposto con piacere e innanzitutto affetto verso questa richiesta, prevenutoci da Danilo, amico di infanzia, un grande affetto ci lega anche a tutta la sua famiglia e chiaramente alla memoria del grande Pagni Dante. La Evol è un'azienda giovane con sede a Castrovillari ed è nata dall'amore per lo sport e la volontà di offrire all'abbigliamento sportivo una chiave interpretativa fuori dai soliti schemi. Ampia la gamma di articoli sia per il settore maschile, femminile, volley, basket, dalle maglie ufficiali da gioco all'abbigliamento per l'allenamento e il tempo libero ed ancora accessori. Evol, specialista nella fornitura di abbigliamento sportivo, tra le diverse squadre partecipanti a questo Memorial, ce ne sono alcune che rientrano già tra i vostri clienti? Società sono società importanti, sono società professionistiche innanzitutto, verso le quali guardiamo con interesse, chiaramente in protezione futura. Ma tantissime che sono state invitate, specialmente nel Lazio, dove noi siamo molto presenti, con società quotate come Campioni d'Italia, come Savio, Torte e Teste, ma anche realtà regionali importanti, qui vicino stesso Castrovillari, Corigliano, Reggio Calabria, insomma anche nella nostra regione. So che sarà certamente come ogni anno un evento molto partecipato e qualificato perché parteciperanno comunque società qualificate nel palcoscenico e nel settore giovanile calcistico italiano.